Eccoci qua, che festa! E questa è la cameretta, in pieno centro. Fa tanto il figo, viaggio on the road e poi, guardatelo, è incazzato. Questo è il toilet, dove cazzo sta la luce? Il toilet senza luce. Spero che lo vediate. Dico? Questa è la camera. Io ti ucciderò nel sole. Eccolo! Non c'è di shower. Vediamo cosa si vede dal nostro balcone. Aspetta, reggi un attimo. Sto morendo di caldo io. Siamo a Perugia. Finalmente abbiamo parcheggiato la Cazzo di Maga, abbiamo trovato l'hotel e siamo qui adesso nel centro storico di Perugia. Cazzo quanta gente che c'è lì. Adesso andiamo a fare un giro e vediamo cosa c'è qua attorno. Ci ambientiamo un attimo perché siamo un po'... Stabilizzati. Agitati. Tu saldi e scendi, saldi e scendi, saldi e scendi. Divieto. No, qui non si può entrare, qui si può, qui no, qui no, qui su. E poi trolley sulle scale. E giù, e su. E che cazzo? Ora ci rilassiamo e si parte. Cambiamo la musica. E giusto per mettere ancora un po' di agitazione, saliamo sulla ruota panorale. Si parte. Oddio, che bellissimo. Oddio, che idea di merda. Ok. Lo posso guardare giù? Mi sento come Ryan. Un bacio a Vitti, prego. Ma fai il giro della morte? No, che prego. Quanto siamo romantici oggi. Sono 5 minuti che stiamo facendo su e giù in questa cazzo di ruota panorale. Non abbiamo ancora capito quando cazzo smette. Cazzo. Scusate per i troppi cazzo. Vedremo i beep. Vedremo i beep. Guardate che bello. Se si vede qualcosa. Poi io guarderò del video se è bello il panorama. Ok ragazzi siamo fermi. Aiuto. 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 Perugia. Che ansia sta per ruota. Allora. Direi che abbiamo fatto una prima scelta. che stiamo trovando questo molto buon. Anche una dureria. Un'aria prosciutto. Stiamo degustando queste birre. La prima sapeva di amarena. Molto buona. Non mi sa che dopo ce ne facciamo una singola. E infatti vince. E secondo me ci siamo arrivati al secondo piano. che ci siamo ancora. Adesso sapevo questa. Era una bianca. E insomma la marena mai trovata prima. Non ci ha visto. Non ci ha visto. O l'italiano stasera sapeva. E si cena. Io ho preso le pennette al tartufo. Oddio. Oddio. Penete la nocia. Oddio. 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 tagliere tartufato, salumi tartufati e manca ne so, mangiamo e vediamo cos'è tanto lei ci sta per mangiare il carbone sono fantastiche io a metà primo piatto era sanzissima, però è troppo buono questo sono pienissimo ma è tutto così buono e non riesco a smettere di mangiare sono un po' provato, il pane nero è fantastico, la cata è a passi il pane nero che non avevo mai assaggiato è buono questo ragazzi questa vacanza ci sta uccidendo è una vacanza enoculinaria e tipo se vedete il vlog del primo giorno ero 10 kg fa quindi non ci fate caso vediamo se riusciamo a sgruppare con un po' di Jäger ma sto per morire tra l'altro il giubbotto non è perché ho freddo è tutta una cosa tattica perché sto per esplodere se qualcuno mi chiede se sono incinta penso che gli tiro il bicchiere in testa perché non mi lo ripeto per le più comunque si è andata un po' faticosa siamo veramente mangiando in questi giorni non ci stiamo facendo mancare niente più l'art caffè di Perugia ma come lo fai prima dell'hotel non ti chiede di avere l'ultimo amaro già con la gioventù perugina amici questa giornata a Perugia è cominciata un po' un nuovo nervoso non si trovava parcheggio sali scendi via strette è tutto un casino poi ci siamo rilassati abbiamo mangiato è diventato molto spiace abbiamo trovato un locale che c'è proprio chiamati dentro che è uguale al nostro loft caffè loft caffè Perugia andassi però prima passate dell'art caffè Verona bip pubblicità occulta dite che vi mando all'art caffè Verona e avrete un super trattamento no comunque bello serata bella la gente sono gentilissimi il servizio al ristorante è quasi fastidiosamente gentile un po' come beh smettila però noi siamo qui all'hotel Priori contro botte di celosa smetti e si è fatto troppi Jagermeister stasera capicelo vero domani mattina destinazione fabbrica della Perugina smettila e adesso noi vediamo la buonanotte hai perso la lingua? buonanotte buonanotte un baciucchio a tutti un baciucchio ciao bamboli yeee come dicono qua a Perugia a Perugia yeee come dice erfaina a belli un saluto a tutti ciao ciao